Circa il 30% delle esportazioni nazionali passa attraverso le sapienti mani del tessuto orafo-aretino, composto da circa 1.200 piccole realtà economiche. Questo è il dato che emerge dal quadro tracciato da Nuova Banca Etruria, sull'andamento e le prospettive del comparto provinciale e manifatturiero orafo. Secondo quanto risulta l'osservatorio dell'Istituto di credito, in coincidenza della metà dell'anno 2016, le aziende aretine hanno complessivamente generato esportazioni per circa 900 milioni di euro, un dato però che deve tener conto anche della contrazione del 5,84% registrata nel primo semestre 2015. Se da un lato il mercato medio orientale desta qualche preoccupazione per quanto riguarda l'export, dai dati Istat emergono anche nuovi spunti positivi, quali ad esempio il ritorno degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito, nonché la conferma della piazza di Hong Kong. A differenza dei settori orafi di altre zone dell'Italia, Valenza, Vicenza, c'è sicuramente una reazione molto più positiva. Mentre il comparto orafo-aretino perde il 5%, gli altri comparti perdono a due cifre tutte e due, quindi vuol dire che a fronte di un calo dei mercati medio orientali forti si è reagito su altri mercati, quindi vuol dire qualità del prodotto, vuol dire d'utilità da parte delle aziende, vuol dire inventiva e creatività. Per quanto riguarda l'export, il manifatturiero orafo ha comunque fare da traino all'export nazionale? Assolutamente, all'export toscano e all'export nazionale, sono settori di traino e che entrano un po' nel concetto di elite, perché in Italia si parla sempre di export come export del lusso e questo è un comparto che del lusso ne coglie a pieno i segni, sia della qualità del prodotto, sia dell'eccellenza della manifattura e sia dell'interagire con altri settori come quello della moda. Ecco, il 30% dell'export è racchiuso nel manifatturiero orafo a retino dal vostro bilancio? Assolutamente, assolutamente. E noi siamo anche soddisfatti di una cosa, che mentre prima dicevo c'è una discesa dell'export di circa il 5%, noi abbiamo una crescita degli affidamenti su questo settore e sul comporto dell'export, quindi siamo addirittura in controtendenza, vuol dire che abbiamo sostituito altre banche che prima approcciavano il settore in modo diverso, quindi noi torniamo ad essere veramente una banca in crescita anche in questo settore.